Schianto in moto muore 43enne pesarese Firmato l'accordo per il nuovo ospedale di Cagli A Pesero taglio del nastro alla ciclabile di Via Fratti Scuole Eccol con Vittorosa dell'Agrario Cecchi VL prodigiosa vittoria capolavoro a Milano Grazie a tutti A settimana in compagnia dell'informazione serale del canale 80 di Rossini TV Notiziario di lunedì 30 di ottobre che apriamo purtroppo dandovi notizia di un altro incidente mortale sulle nostre strade Quella di strada dei Colli che unisce Pesero a Trebbia Antico e Novilara Dove ieri attorno alle 13 ha perso la vita Giuseppe Marchegiani 43 anni, imprenditore idile e padre di due figlie E' morto in sella la sua moto Ducati andando a impattare contro un albero per poi precipitare nel dirupo sottostante Il motociclista stava andando a pranzo da un amico ed è morto sul colpo per la gravità dei traumi riportati Un lutto che ha scosso la comunità pesarese dove Marchegiani, residente a Soria, era piuttosto conosciuto Ed ora dedichiamo il nostro primo servizio ad una importante novità per la edilizia ospedaliera della provincia E' stato infatti siglato l'accordo per il nuovo ospedale di Cagli E' stato sottoscritto oggi nelle comune di Cagli l'accordo di programma per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera a servizio del territorio Ospedale e case di comunità previsti nel piano socio-sanitario presentato oggi alla presenza degli assessori regionali Baldelli, Saltamartini e Daguzzi 15 milioni di euro per l'investimento più grande della regione su questa tipologia di edilizia sanitaria Accordo siglato tra regione, provincia di Pesaro-Urbino, comune di Cagli, Unione Montana, Catrinerone e azienda sanitaria territoriale 1 Un intervento strategico nella provincia di Pesaro ma per tutta la regione rispetto a un piano sanitario che finalmente ha detto no agli ospedali unici voluti dalla giunta precedente Ma dice sì a una sanità che risponda alle esigenze sia della costa che dell'entroterra Con 15 milioni di investimenti, l'investimento più importante per questa tipologia di strutture che viene messo a terra proprio qui a Cagli, di cui la metà delle risorse di piano nazionale di ripresa e resilienza e l'altra metà di contributo regionale mediante il cosiddetto articolo 20 che finanza appunto l'edilizia sanitaria e ospedaliera Per la restituzione di alcuni servizi che erano stati cancellati qui sul territorio dal precedente piano sanitario e che il nuovo piano sanitario della giunta a Coroli vuole progressivamente restituire alle nostre comunità su tutto il territorio Il nuovo presidio ospedaliero sorgerà in un'area pianeggiante libera da vincoli di circa 12 mila metri quadrati in località San Lazzaro adiacente all'eli superficie Nuova struttura composta da un piano interrato e due piani fuoriterra per una superficie complessiva di 3.900 metri quadrati Oltre a case e ospedali di comunità con 36 posti letto in due moduli la struttura avrà anche un potenziamento delle prestazioni che riguarderanno la specialistica ambulatoriale la diagnostica radiologica e laboratoristica per la copertura completa delle necessità sanitarie della popolazione residente Saranno inoltre individuati i percorsi di potenziamento della rete di emergenza urgenza Il progetto acquista grande serietà e ad oggi siamo veramente soddisfatti perché abbiamo parlato anche di tanti tanti servizi molti in più rispetto a quelli che ce n'erano prima nella nostra struttura abbiamo parlato anche di un recupero della vecchia struttura insomma ecco, un progetto serio un progetto serio non calato per far contento a qualcuno ma per dare delle risposte concrete alle altre marche Il cronoprogramma punta a iniziare i lavori nella prima metà del 2024 per arrivare a conclusione nell'arco di due anni Il Covid ha dimostrato la forte carenza della medicina del territorio quindi si cerca di potenziare il territorio con un'idea base che è quella di curare le persone a casa con l'infermiere di famiglia l'infermiere di comunità di curare le cronicità negli ospedali di comunità come in questo caso di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro e poi di potenziare la medicina per acuti che si svolge negli ospedali di primo livello Qui questo è un percorso molto chiaro noi come Regione Marche abbiamo fatto un investimento sulla sanità dell'entroterra che è causa evidentemente anche di possibili problemi di spopolamento è un segnale inequivocabile e attraverso un accordo che stiamo portando a casa con i sindacati dei medici di medicina generale dovrà essere rinnovata l'idea di una sanità di prossimità ai cittadini altrimenti c'è come avviene in questo momento la corsa verso il pronto soccorso proprio perché non c'è la medicina del territorio Ed ora facciamo un passo indietro per parlare di un altro accordo quello siglato sabato da Qualagna tra Marche e Governo nazionale accordo che è arrivato all'apertura della 58esima mostra della Fiera del Tartufo Bianco alla presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni un accordo che porta oltre mezzo miliardo di finanziamenti per la nostra regione Difficile immaginare una partenza più prestigiosa per la 58esima Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna Sabato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha fatto tappa nella città del Tartufo visitando gli stand che elevano la massima qualità del prezioso tubero Ma la tappa nel pesarese è stata tutt'altro che una gita di piacere piuttosto è stata una visita fondamentale per sbloccare per le Marche la bellezza di 532 milioni e mezzo di fondi attraverso la firma dell'Accordo di Coesione il secondo in Italia dopo il precedente della Liguria Una stretta di mano fra Stato e Regione suffragata alla presenza del Ministro Raffaele Fitto e del Governatore Francesco Acquaroli che ha accolto la premiera ad Acqualagna assieme al Sindaco Luca Lisi L'Accordo punta a mettere a bilancio regionale risorse canalizzate sulle opere infrastrutturali pensate per riequilibrare il divario fra regioni spesso arretrate o troppo isolate come le Marche 532 milioni che saranno canalizzati su strade porti e politiche attive per l'entroterra Oggi è una tappa molto importante è la firma dell'Accordo di Coesione tra il Governo e la Regione con il quale anche insieme al Fondo di Rotazione mobilitiamo oltre mezzo miliardo da concentrare particolarmente sulle infrastrutture di collegamento della Regione con progetti molto importanti per questo territorio penso alla Petemontana che ci consentirebbe e ci consentirà di intanto decongestionare l'autostrada triatica ma dall'altra parte anche di favorire la mobilità da, verso e all'interno delle aree più interne mi scusi per la ripetizione per cui noi lavoriamo su una priorità che abbiamo sempre dichiarato l'abbiamo dichiarata diversi anni fa questa è una regione nella quale si sviluppa un paradosso è una regione che si trova al centro dell'Italia è isolata, mentre dovrebbe essere un crocevia quindi la sfida infrastrutturale per una regione come questa è fondamentale il Presidente Acquaroli ci lavora dall'inizio del suo mandato noi siamo contenti di offrire con questo accordo con il Governo nazionale in base ai fondi europei il nostro contributo perché penso che i prodotti la manifattura gli scorci bellissimi che questa regione ha nulla possono in termini di competizione se non sono accompagnati da adeguate infrastrutture cioè le marche di altro non hanno bisogno che di essere messe in condizioni di competere ad armi pari ed è quello su quale cerchiamo di lavorare è una presenza significativa è una presenza che conferma l'interesse per questo Governo nei confronti delle regioni che storicamente sono state periferiche rispetto alle dinamiche centrali è anche importante perché con la firma di questo accordo e con la presenza del Presidente Meloni e del Ministro Fitto si sancisce una collaborazione che è fondamentale per quello che ci riguarda per continuare a costruire un'Italia unita e coesa e dove regioni come le Marche che hanno appunto dei problemi di natura infrastrutturale che negli anni hanno avuto comunque dinamiche periferiche pesanti che hanno penalizzato l'economia possano continuare a sperare in un futuro e costruire una risposta che possa essere anche attrattiva e soddisfacente Ed ora andiamo sulle notizie di Pesaro e ci occupiamo di tre significativi tagli del nastro per altrettante inaugurazioni arrivate questa mattina Cominciamo da Via Fratti di Pesaro è stato infatti inaugurato il percorso ciclopedonale che unirà il quartiere di Pantano a quello di Montegranaro e Muraglia all'insegna della sostenibilità e della sicurezza Un chilometro e duecento metri che unisce Pantano a Muraglia e Montegranaro Dopo mesi di lavori la bicipolitana aggiunge uno dei tasselli più strategici con il completamento della pista ciclopedonale di Via Fratti che oggi ha avuto il suo taglio del nastro istituzionale Cresce questa rete che è diventata un'infrastruttura del benessere che ci ha fatto diventare città della bicicletta e che rende la qualità della vita in città migliore migliore da tutti i punti di vista compreso la sicurezza In questo caso interverremo anche più in una rotatoria nell'incrocio tra Via Fratti Via Pantano e Via Madonna di Loreto perché è un incrocio questo abbastanza pericoloso però questo non è solo un tratto di bicipolitana è l'avvio di un progetto strategico di riqualificazione di tutto l'asse Via Fratti e Via Giolitti Questa una volta era la circonvalazione era la strada che era stata fatta per portarci il massimo del traffico possibile che in qualche modo attraversava la città Oggi abbiamo l'interquartieri la città è cresciuta e questa strada grazie alla ciclabile grazie agli alberi le varie ruole che vengono fatte è già diventata un viale e vogliamo continuare su Via Giolitti su Via Ponchielli perché diventa un asse da attraversamento bellissimo e al tempo stesso sicuro È un intervento che complessivamente impegna l'amministrazione per oltre 400 mila euro e verrà completato da qui a qualche settimana con la realizzazione della rotatoria anche questa richiesta sia del quartiere di Montegraro Moraglia che di Pantano oltre che voluta dei residenti ed è il primo passo rispetto a un progetto ambizioso dell'amministrazione comunale che vuole prolungare questo collegamento ciclabile sia in Via Giolitti che in Via Ponchielli L'obiettivo su Via Giolitti sarà quello di non togliere i parcheggi perché ci sono diverse attività commerciali e nella prima bozza di disegno che abbiamo i parcheggi sono garantiti Il progetto su Via Fratti ha previsto anche la sostituzione dell'impianto di illuminazione con l'installazione di apparecchi a led a basso consumo ed è stato finanziato per 180 mila euro dai fondi di un bando regionale del 2018 portato avanti dal consigliere Andrea Biancani Un bando molto importante che era a livello regionale che prevedeva lo sviluppo della mobilità sostenibile quindi i percorsi ciclopedonali Ovviamente quando si va a stringere una strada c'è sempre un po' di polemica le persone dicono ma cavolo è una strada larga l'avete ristretta io devo dire che conviene sempre arrivare magari qualche minuto dopo però riuscire a mettere in sicurezza tutti quelli che sono i soggetti che utilizzano la strada in questo caso ciclisti pedoni qui non c'era un vero e proprio marciapiede non c'era una pista ciclabile oggi riusciamo a mettere sia ciclisti che pedoni in sicurezza e rimane comunque una bella carregiata per le auto E come dicevamo mattinata di inaugurazioni non solo la pista ciclabile di Via Fratti novità anche nel mondo della scuola in particolare per l'Istituto Superiore Cecchi di Pesaro che ha inaugurato ufficialmente il suo convitto femminile l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro ora ha anche un convitto femminile è stato infatti inaugurato questa mattina alla presenza del Vescovo Sandro Salvucci l'edificio riqualificato che permetterà all'Istituto Superiore di ospitare studentesse fuori sede domiciliandole nei locali di proprietà della parrocchia di Santa Maria delle Fabricce limitrofi all'ex asilo benvenuti ovvero a brevissima distanza dall'Istituto di Villa Caprile dopo il convitto maschile inaugurato nel 1876 oggi al 2023 nasce anche il convitto femminile mancava perché nella provincia non c'era un convitto statale femminile e molte erano le ragazze che chiedevano di poter venire a Cecchi magari da lontano ma non lo potevano fare perché ovviamente intraprendere un viaggio di un'ora, un'ora e mezzo due ore a volte di andata e altrettanto di ritorno era praticamente impossibile di conseguenza questo significava rinunciare ad iscriversi a Cecchi da quest'anno lo si può fare quindi anche le ragazze che vogliono studiare all'agrario di Pesaro lo possono fare e possono farlo in maniera stanziale cioè abitare qua qui vicino, vicino alla scuola come vedete c'è questa struttura messa a disposizione dalla parrocchia che abbiamo ristrutturato e che sarà appunto in futuro il convitto femminile del Cecchi un convitto completato dopo una rifunzionalizzazione dei locali con lavori di manutenzione e risanamento effettuati in tempi estremamente contenuti la decisione è stata presa il mese di giugno perciò in prossimità anche delle vacanze estive e naturalmente anche tutte le varie ditte che dovevano concorrere per l'intervento a parte già essere tutte impegnate ma vedevano un attimino un obiettivo di poter anche fermarsi un attimo invece ci hanno dato grossa disponibilità e questo ci ha portato a raggiungere un obiettivo che quasi stentavo anch'io crederci ma ci abbiamo messo di tutto e di più per raggiungere quello che abbiamo fatto convitto che già ospita 12 ragazze per il corrente anno scolastico ma che punta ad ampliare la disponibilità di posti letto attraverso ulteriori lavori di ampliamento c'è la volontà di rilanciare di ristrutturare anche il secondo piano di questo edificio e quindi penso che complessivamente potrà aspettare dalle 20 alle 22 ragazze convitto che aiuta dunque il cecchia a rispondere alla costante domanda di iscrizioni che può vantare l'istituto c'è un open day alle porte che ci aspetta ma questo ci va a sperare proprio perché le iscrizioni del nostro istituto sono sempre andate in linea e anche in controtendenza se vogliamo con il calo che c'è stato in altre scuole quindi speriamo di rimanere sopra i mille iscritti appunto la prima giornata di open day è il 16 di novembre 16 di sette di novembre ovviamente quest'anno abbiamo anche la possibilità di estendere il nostro giro per far conoscere anche per la prima volta anche i locali e gli ambienti del convitto femminile terzo taglio del nastro di giornata a Pesaro è stato quello delle murales dedicato alla guida sicura realizzato nell'ambito del progetto Be Responsible che ha unito amministrazioni forze di polizia, prefettura, questura e croce rossa se bevo non guido e questa è l'opera grafica ideata dallo studente del liceo artistico Mengaroni Leonardo Scaloni risultato vincitore del contest legato al progetto l'opera di street art è stata realizzata sul muro di una vecchia cabina elettrica in zona Porto nella rotonda fra via Canale e via Morosini da alcuni studenti del liceo coordinati dalla professoressa Rosalia Cicerale Ancora inaugurazioni parliamo di quella avvenuta sabato in via Furiasi zona Torraccio dove c'è stato il taglio del nastro al nuovo campo di addestramento per unità cinofile di Croce Rossa italiana un'area di oltre 7.000 metri quadrati che sarà utilizzata non solo per l'addestramento specifico di unità cinofile da soccorso ma anche come campo polivalente per la formazione continua dei volontari specializzati nel settore emergenze e per incontri con la popolazione e le scuole presenti alle cerimonie rappresentanze dei carabinieri dei vigili del fuoco della guardia di finanza della guardia costiera della polizia locale e della protezione civile i presenti hanno potuto assistere ad alcune simulazioni che hanno mostrato come avviene la formazione di cani e di conduttori è sempre sabato ma a Gabice Mare è stata inaugurata anche la ciclo pedonale lungo il fiume Tavollo un progetto da 850.000 euro dei quali 550.000 derivanti da contributo statale un'opera importante per la città di messa in sicurezza dell'argine fluviale e di strategico collegamento sostenibile tra il quartiere di Ponte Tavollo e il quartiere Mare si potrà dunque percorrere la ciclabile di 300 metri evitando di percorrere il viale della Vittoria ed ora vi mostriamo queste immagini di rimpatriata ieri al ristorante Palis della classe del liceo socio psicopedagogico a 24 anni di distanza dal diploma del primo anno dell'indirizzo sperimentale del liceo Mamiani assieme alle professoresse Cecilia Casadei e Donatella Crescenzi si sono ritrovate le ex studentesse Emanuela Rossi Sara Gargamelli Francesca Bianchi Perla Irene Silvia Sant'Angeli Elisa Pietrelli Lucia Carboni Lucia Mattiucci Erika Giangolini Francesca Pizzagalli Alessandra Bacchiani Francesca Fontemaggi Sara Mengucci Isabella De Rosa e Elena Gurini Ed ora una ricca pagina sportiva che apriamo con la prodigiosa vittoria della VL in casa dei campioni d'Italia di Milano Miracolo a Milano recitava il titolo di un celebre film del dopoguerra firmato da Vittorio De Sica titolo cucito su misura all'impresa prodigiosa della Carpegna Prosciutto Pesaro che in una domenica di grazia rovescia un pronostico che sembrava segnato riscrivendo invece un capolavoro in casa dei campioni d'Italia vittoria peserese in casa Armani che mancava da cinque anni e mezzo la VL rialza la testa proprio nel momento più complicato sorprendendo tutti sul parquet del Mediolanum Forum 82-90 il punteggio finale di una gara in costante equilibrio durante la quale i ragazzi di Coach Buscaglia hanno mostrato eccellente organizzazione in fase offensiva e la giusta aggressività in difesa un'incredibile prova corale che ha portato bene sei uomini in doppia cifra con il solito totè primo violino protagonista ancora una volta di una prestazione eccellente da 20 punti ma benissimo anche gli americani Ford su tutti ma anche McCallum Bamford e Bluett vengono galvanizzati dal palcoscenico d'elite e apparecchiano una vittoria costruita su una partenza in fuga nel primo quarto e di puntuale reazione alla rimonta dell'Olimpia capace di andare a più otto a inizio ripresa vittoria che si concretizza nell'ultimo parziale regalando il secondo successo a Buscaglia che nonostante uno straniero in meno in vista dell'avvicendamento Schilling-Moccevicius si dimostra più bravo di Messina che di fatto esagera col turnover in ottica Eurolega risparmiando pezzi da 90 come Melli e Shields per la VL sono altri due punti in classifica ancora ottenuti in trasferta che ora dovranno essere il propulsore per provare a gioire anche in casa con Napoli nel match di sabato prossimo non solo gioia per la VL sorridono anche le due creature sportive di casa Italservice dal calcio 5 al Loreto Basket al Palamegabox sono andate in scena due vittorie nell'arco di 24 ore in questo fine settimana è stato un weekend doppiamente gratificante per la famiglia Italservice con calcio 5 e basket che al Palamegabox di Pesaro si gustano due vittorie al sapore di riscatto nel giro di appena 24 ore hanno cominciato i ragazzi del futsal venerdì sera riprendendo confidenza col successo dopo due urticanti KO in trasferta davanti al pubblico amico arriva invece la seconda vittoria su due apparizioni interne con un 4 a 2 alla fortitudo Pomezia in una partita vissuta in altalena i laziali passano morì lo schiocchiet pareggia ma Pomezia rimette il muso avanti andando all'1 a 2 all'intervallo nella ripresa arriva la reazione dell'Italservice che esulta col marcatore che non t'aspetti il portiere Putano che sorprende il dirimpettaio Tarenzi con un rilancio è il preludio al galvanizzante 3 a 2 di Belloni Pomezia non ci sta ma Putano dopo il gol para la grande e poi disegna pure l'assist per uno di lo schiocchiette che chiude sul 4 a 2 è stata una bellissima partita molto avvincente anche perché insomma è stata molto combattuta siamo stati anche in svantaggio ma il grande carattere la grande squadra ha saputo rimontare quindi complimenti davvero ai ragazzi e trascinati da un bellissimo pubblico e questo è sempre una grande è una doppia vittoria insomma quindi siamo molto contenti incontravamo una delle migliori squadre del campionato che sicuramente come noi non aveva raccolto abbastanza per quello che aveva seminato ma a livello soprattutto tecnico una squadra fortissima e chiaramente abbiamo sofferto ma sapevamo che sarebbe stato così avevamo qualche ragazzo che aveva recuperato in settimana quindi abbiamo stretto molto i denti però credo che alla fine la vittoria sia stata meritata perché la squadra ha lottato ha creato tante occasioni abbiamo avuto anche un putano che obiettivamente ci ha tolto le castagne dal fuoco sia in fase difensiva che in fase realizzativa con il gol che ha fatto però penso che sia giusto perché la società crede molto in noi il pubblico ci sta seguendo e quindi è stata veramente una gran bella festa vincere qua a Pesaro ora Little Service di Calcio 5 sarà di nuovo in campo nel turno infrasettimanale del primo novembre con la maxi trasferta che si disputerà a Catania alle 17 giovedì 2 novembre tornerà invece al pala Megapox Little Service Loreto Basket per affrontare il derby contro la Bramante attuale capoclassifica del torneo sarà un autentico big match perché il Loreto Basket ci arriva forte di un secondo posto in classifica a meno 2 dalla vetta frutto della vittoria ritrovata sabato sera col Pescara 2.0 con il punteggio di 76-50 al termine di un match condotto sin dai primi istanti e che tira una riga al precedente capo di Roseto avevamo chiesto un atteggiamento più aggressivo dall'inizio vista la brutta prestazione della partita precedente a Roseto la reazione c'è stata i ragazzi hanno risposto bene e finalmente abbiamo visto da quel punto di vista un miglioramento abbiamo visto che le partenze nel primo e secondo quarto erano sempre un po' a ralenti oggi invece abbiamo un po' invertito la tendenza siamo partiti molto bene abbiamo praticamente chiuso la partita già nel primo quarto abbiamo potuto ruotare tutti i giocatori anche in vista della prossima partita che è un'infrasettimanale non è però arrivata la terza vittoria in tre giorni al pala Megabox per le squadre pesaresi dopo i successi di Calcio 5 e Basket ha perso invece la Megabox Vallefoglia nella massima serie di pallavolo contro una scatenata Pinerolo per 3-7-0 con i parziali di 22-25 18-25 e 17-25 comincia invece a farsi problematica la situazione della Fiorini Pesaro Rugby che ieri incappata nella quarta sconfitta in altrettante partite sul campo di Villorba è andata in scena una partita molto combattuta che ha premiato i trevigiani 31-26 pesaresi che si accontentano di un punto di bonus per una classifica che ancora non sorride e completiamo il quadro delle notizie sportive ricordandovi che questa sera scenderà in campo anche la Vispesaro al Benelli alle 20-45 contro il Pinetto nel posticipo di Serie C e con lo sport concludiamo questa nostra edizione della telegiornale Rossini News come di consueto vi ricordiamo la nostra prima serata che è in questo lunedì 30 ottobre alle 21.20 è dedicata a questo approfondimento legato all'attività di Fratelli Simoncelli mezzi elettrici per nonni moderni tutte le novità appuntamento questa sera con il speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini e poi come sempre l'informazione su Rossini TV vi dà appuntamento a domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia ogni mattina dal lunedì al sabato si conclude qui invece lo spazio informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Rossini TV di Rossini TV